sta arrivando lui minchia compà non puoi capire come mi sono salvato madonna madonna cristo mio non ci puoi credere non ci puoi credere compà ma io andiamo a casa loro tipo uuuuuh porco dio ma dove stai? ma tu che cazzo stai di nuovo sul quad? ma sei coglione veni qua veni qua veloce veni qua veloce veni qua veloce girati si tutti gli obiettivi ci abbiamo che figura di merda nooo porco dio ma non sei morto tu? si ah no ma ho fatto che sono morto solo io per l'anino no pure io mi sono salvato mi sono salvato mi sono salvato mi sono salvato devo andare a uccidere il carro armato aspettate abbiamo preso la ultima arma si puoi ciò buuuu 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 quali? hai capito che con il c4 ho fatto che sto facendo un bordello con il c4 non beh ho distrutto un carro armato una contra aerea un carro armato una contra aerea un carro armato una contra aerea e mezza contra aerea l'ho distrutta pure aspetta 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 oh ci sono tutti sulla c4 lomba dove sei l'obiettivo Charlie è sotto il nostro controllo ahahahah va 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 dove sei? ah con due ne stai prendendo quale andiamo a prendere? quale andiamo a prendere? ah va 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 se c'hai oggetto va è vero che tu vuoi sto oggetto vero? ahaha quale 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 sanno stovettare? ok ah Ok, poi io li ho uccisi Oddio col caschetto, adesso è bello Figura di merda No, io tutte e due vedo scritti Lo faccio Ciao Come ? Boom Ah 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 Crepa, pezzo di cane Non ci cammino più sulle Sull'asfalto. Camminoочamente sulla pavimentazione Io sono alternativo Se lo ammazzo col quad me ne vado così L'hai visto? L'hai visto il video? Chi ha da G18 non si può ottenere Poi riprendo pure il quad E ci facciamo un altro giro In cerca di persone da uccidere Che è sopra Vai che l'abbiamo preso Vai che l'abbiamo preso E' un assistente soppressione Ah c'è uno nell'altra casa E' a sinistra dove... No no questa l'altra Mi piace un carro armato Fermati 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 che non mi hai visto Due Explosion Cosa sei dottore? No Merda Sono un coglione Ennesimo carro armato distrutto La legge è da C4 Fotti di sto carro armato di corsa Fotti di il carro armato di corsa E dai uno davanti Soca Fotti mi sono cagato in mano C'è uno mi ha fatto tipo un attentato terroristico Ah sei tu Sì ma c'è qualcuno C'è qualcuno infatti Dietro 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 A tutti ucciso 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 Quando sei morto tu Quando sei morto tu Ho buttato il C4 E sono morti due Ho ammazzato poi al C2 con la G18 Purtroppo Anche qua facciamo un bordello Andiamo sotto la parabola Viego la torcia Se via Eh dove andiamo? Guarda ci mettiamo i geni Guarda ma quanti cazzo ce n'è Cioè che patto Dimmi dove sono Tutti in là sono Tutti qua dentro sono Lì è lì è A tu come ti permetti Sta di cazzo All'AC messo Non è qua Ci buttiamo all'AC tipo In corsa Dove sei? Vieni 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 No no Dai fotti Te ne sali Va 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 A voi Devi ammazzare uno a volo Dal cosa Non tre Siamo con lei C'è nessuno No Se io faccio un'accessione Generalmente E tu resti sopra il E tu resti sopra il quad Minchia Sentirei di parlare di me All'ospedale Va vai va vai 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 Sali 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 Oh ma come ti permetti Dice lo scende va 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 all'addita sono presa si si sto girando sto girando a est della tua posizione si farà che ci sia un nuovo nemico con anti carro nooo oh 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 no secondo me no si si lo giro ma adesso provo un attimo ho individuato un soldato nemico con anti carro su no 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 te ne sei andato mi hai fatto vede mi hai fatto fermare e te ne sei andato mi ha ammazzato quello non avevo armi eh avevo la c18 ma ha pochi colpi sta arrivando lui minchia compa non puoi capire come mi sono salvato madonna 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 christian no non ci puoi credere non ci puoi credere compa non ci puoi credere peggio di quella che hai visto nel video peggio di quella che hai visto nel video compa l'altro non ci puoi ascoltare infatti non va mi sono girato tutti lei tutte le uccise di modo sei salita no cosa succede cosa succede bravo ero sceso ti avevo lanciato ti avevo lanciato facciamo una combusta di questa veloce di questa labbrumotte a bombazza ma io ci fai tutti ma sei fatto bravo mo mo sopra c'è uno sopra dove non lo farà affacciare non lo farà affacciare l'ho ucciso a quello la sopra dietro dietro è nell'angolino dove sei tu l'ho ucciso ti sei salvato vieni qua qua c'è il quodini ancora controlliamo l'obiettivo bravo c'ho il quodini grazie c'è un soldato nemico con anticarlo a sud di dove ti trovi al momento ok muoviamoci guardi che c'è una bomba madonna eh l'ho ucciso? no io non l'ho ucciso no l'ho ucciso lo sta... mi sono in segretà perchè lo stavo uccidendo tipo volando con il quod ho localizzato un mitragliere nemico si trova a est della tua posizione ho fatto una finta pattesca lascia stare ti ho salvato pure la vita e abbiamo ammazzato a quello c'è uno pure qua sopra c'è uno pure qua sopra facciamono i numeri hey torna qui scopra tranquillo Vieni sulla macca non mi ha fatto ammazz bleeding Mi ha fatto ammazzare Mi ha fatto ammazzare Mi ha fatto ammazzare Che stronzata che sei morto Vabbè vabbè